Uomini e donne, anticipazioni 29.04, totale tra Tina e Delio. Sabato 29 aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. A quanto pare, quella di oggi è stata una registrazione abbastanza tranquilla. Come di consueto, il blog Lorenzo Pugnaloni ha rivelato attraverso delle storie sul profilo Instagram ciò che è accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi. Queste le dinamiche sviluppatisi attorno al trono over. Di seguito gli sviluppi relativi al trono classico con i troni di Nicole Santinelli e Luca Daffré.